bella a tutti ragazzi dal vostro ice bentornati sul mio canale allora siamo di ritorno su sniper elite 4 è uscito oggi il dlc tempesta mortale la vedete anche scritto lì tempesta mortale 1 principio per fare questo video a riguardo alle sfide c'è anche trofeo trofeo è tutto incluso dettaglio dice completa tutte le sfide ci sono le cinque sfide da fare ce n'è una particolare che la ritorsione perfetta come vedete lì evidenziata in italiano dice spara a uno o più cecchini con il mirino del fucile ok sembra chiaro no prendo la mira spara al cecchino la sfida fatta no almeno va come l'ho capita io ragazzi non so se sono l'unico non so se farò figure di m postando questo video oppure se aiuterò altra gente spero di poter aiutare altra gente ok adesso faccio vedere quella in inglese qual è l'inglese mettendo nell'impostazione del sistema in inglese sempre così l'inglese appunto dice shot one or more snipers truck che rice scope scusate il mio inglese ma io non sono inglese quindi ecco l'inglese letteralmente tradotto in italiano significa spara a uno o più cecchini attraverso il loro mirino che c'è una bella differenza dalla traduzione che hanno fatto loro in italiano in inglese si capisce esattamente cosa bisogna fare l'italiano invece no anche perché io leggendola in italiano ci ho provato ho provato in tutti i modi sparando dalla spalla sparando senza a svuotare i polmoni sparando di qua sparando di là e non sono riuscito a fare la sfida e allora dopo sono andato e impostato la lingua inglese nel sistema e da lì sono riuscito a capire quello che dovevo fare esattamente almeno speriamo adesso andiamo un po a vedere stai lì mirami da lì adesso si sposta ma cazzarola e allora stai lì fermo ah c'era 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 ragazzi no c'era 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 cosa c'era il mirino Spariamo Attraverso Bella Ecco Perfetto Abbiamo visto anche dalla kill cam Che colpa ha passato attraverso Il mirino del cecchino Sfida completata Un successo totale Alla prossima ragazzi Grazie di aver guardato Ciao ragazzi Statevi bene Grazie